Siamo martedì. Non ti fanno investire. E c'è da tutti per tornare sul canale di calcio. No, canale di calcio no, canale mio di Marazzico. Siamo sul campo di calcio però. Finalmente. Sul campo di calcio. Finalmente. Sto covid ci ha rotto le... I campi a vista. Quanto da uscire non fai niente. Vaccini, green pass, tutto il resto. Oggi siamo in un video un po' visto che fa caldo, ci sono 38 gradi. Fa troppo cauro. Facciamo una sfida che avevo fatto sul canale di indietro. Sul canale di Massimo. Con le bottiglie d'acqua. Ok, tipo a tutto freddo però con le bottiglie. Sì, con le bottiglie d'acqua però l'acqua è calda perché... Meglio. Il presente consiste così. Abbiamo 5 tirateste. 5 tentative di prendere una a traverso ogni volta. Abbiamo 12 bottiglie a testa. Il primo che finisce le bottiglie vince. Il perdente si becca il resto delle altre bottiglie. E se metti calcio e vai a imparare le bottiglie che si fa? Non ci arriverà mai in paretà perché così abbiamo due piedi che sono due piedi. Ma che parole non penso proprio. E senza beccare il mio padre però. Vabbè, dovete fare l'arbitro. Dai, chiamolo ca. Comunque lui è Puffo Bianco. Io so, Puffo Bianco e lui è Marazzico 22. Troverete molto presto video sul suo canale. Mi raccomando, mettete la campanellina sotto se non l'avete messa. C'è il like proprio da mettere in like. Se non l'avete attivati. Vai, difendi. Vai, difendi. Andiamo. Facciamo fare questa doccia fredda subito, subito. Non è meglio che poi non ti ripassi tutti? No, no, io tiro quello là. Quella la ho le venti, guarda. Ehi, sei andato vicino? Fa te? Sì, sì. 5 tu diretti. Ok. Oh, brivido. Un brivido filino. Come si riva con il filino. Non va, siamo a tre tiri. Passiamo gli ultimi due sperando di prenderlo. Uh, ho capito la forza. L'andazzo. Che è questo? A bici di tre, però. Passami un po' allora. No. No. Due tiri spregati. Tre tiri spregati. Quattro tiri spregati. Quinta. Stacca, là. Mi dico io, come fai a sbagliare questa porta, va? Perché si metteva dentro. Stacca, là anche la forza, come devo metterla, come devo tirarla, come devo posizionarla. E c'ho, primi dieci tiri. Merda. Stacca, un po' mi importa, però. Portare in porta, tu. No. Che le posso, che le posso io? No, no, perché? No. Fa tre. Fa quattro. Un po' lo metto, non è solo l'estero. Sì, però, guarda, dovrei messerlo. Guarda. Adesso, ho cinque tiri io. la traversa è quella sopra la traversa è quella sopra tre tiri andati un centino metodo di su cosa va sempre parte della traversa però il giro bonus l'abbiamo finita adesso bagniamo il giro bonus l'abbiamo finita tre tiri andiamo al quarto ho fatto il giungo ho fatto il giungo fai dopo alla fine è il puso bianco quanto è fredda però non è fredda sono calde l'acqua sono calde e dove vai devo finire la bottiglia devo finire la bottiglia e siamo 1 a 0 la traversa è sempre quella più in alto la traversa è sempre quella più in alto la traversa è sempre quella più in alto ultimi due tiri troppo alta stavolta hai fatto strike in tutto là ok bene abbiamo concordato con il mio puffo bianco qua con il socio che si è zoppato da solo che essendo che facciamo un po' schifo facciamo le ultime due manche è come va va perché stiamo facendo schifo dopo no perché se vuole fare le due manche perché così già una ma sono beccato io con l'acqua ma lui non se la becca più capito? no ma dopo due anni fermi e così siamo un po' fermi è un po' difficile questa l'ho scagata a ruote quando scende i prossimi sta avvicinando la traversa allora siccome ho un problema di piede prima ho beccato la zona nel terreno e mi fa male quindi per questo è un po' di è un po' di tantissima è mancato siamo a 2-0 ti puoi dare la cugamano per favore? venga no bel gol bel gol un incrocio così non lo prende nessuno questi gol così ti servivano prima tu me la stai buttando però eh ci godi? quale tiri? non lo so però l'ho avuto ha incominciato bene ti sei arreso ultimi due tiri ultimo tiro bel gol voglio vedere se lo lascia beccare è rimasta l'ultima mance la situazione è che un po' bianco si è preso già a due bottiglie quindi a meno che non faccia una doppia traversa con un tiro io ho vito aspettate c'è anche il bonus che se becca il legno e la traversa se becca il legno tirando normale va sul legno e la traversa c'è una bottiglia in meno per quello che ha tirato che si becca vai il legno precca tu come deve capire dove è c'è entrare sotto lo spot e mi sa che questa challenge l'ho vinta no no a parte perché siamo in due a farla sarebbe per tre persone no è per due io la volevo fare in due allora mentre eravamo a telecamere spenti ci ho copito in pausa ho beccavato tutte le traverse immaginabili la porta entrava tranquillamente ora arrivo aspetta il problema sapete qual è? è che ho becca lui ho beccato una attraverso quello che becca è la terza bottiglia d'acqua vai piano io me becco man mano vado piano 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 primi dopo all'alco mi sembra che mi sei appicciato addosso ma non è così agli ultimi cinque tiri ne prendi o meno una ho cinque tiri per rimontare lo svantaggio e no perché guarda con gli ultimi cinque tiri possibilità di prendere la traversa con cinque tiri a meno una me la fa prendere una ragazzi guardate sembra che mi sia fatto il bianino addosso invece questa è acqua però c'ho il pantalone che sta a pizzo addosso quindi non riesco a tirare bene non ci provo finalmente ci è andato vicino all'ultima mancia che è andato vicino no è peggiorato di nuovo è peggiorato di nuovo due tiri prendere a meno una traversa allora questo qua ti serviva prima ok allora visto che è tanto ormai io questa l'ho persa sono buono siccome siamo ancora in periodo di covid e le temperature salgono e scendono non voglio farlo ammalare perché se no si dovrebbe beccare le sue 12 più altre 8 o 9 mie sarebbero 20 bottiglie d'acqua all'acqua la potremmo ai dobbiamo quindi ho deciso che gliene do solo due altre due in testa puoi parlare al pubblico se vuoi cosa vuoi che dico al pubblico che per colpa del covid ho sbagliato anche a tirare nel senso che sono talmente fruente aspetta puoi finire tutto per prima qua c'è il carnefice c'è il carnefice che mi sta per preparare no non ho così fammi il lavaggio perché così no allora ecco qua c'è io mescando perché mi fa un lavaggio tipo sapete a manco te l'aspetti buona pena ecco lo vogliono vedere questo sarà un bel rallenti proprio si vedrà la sua faccia dai però si strunti ma fai proprio schifo perché fa che non la vedono meglio ma adesso più ve lo accoglio aspetta non puoi o dici tu non puoi scriviamo il video vieni non puoi bagnermi se no si becca anche altre otto si preoccupare ma almeno con una tiravo vabbè ci vediamo sul tuo canale per una rivincita di questa challenge o vuoi sfiderai pure Rebecki no 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 allora sfiderai a Massimo no col culo che ama me le becco io si ricordatevi alla campanella di niente proprio perché ce la vengo deve essere il giorno di maneto più brutti video non puoi se no te ne becchi altri otto non ne avresti il coraggio si sono vuote quelle no quelle sono piene le vuote sono là no no sono vuote sono vuote e attivate la campanella di iscrivete al canale e noi ci vediamo un prossimo video sul campo da calcio insieme a Puffo Pianto ciao